musica 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 facciamo certo ho fatto dire questo con queste cose e mi ha fatto se non ho fatto facciamo adesso ora adesso ci sono grandi con l'unico come Africa African sports Sipuri, Simba Sipuri Ereco Cezatena uko Pita l'acuja pola bonga via Dizuri capisa pola con la bonga GOOOOOOOL BORANCHERI YENENYUKA BORANCHERI YENENYUKA Boa BORANCHERI YENENYUS BORANCHERI YENENYUKA GIZO IDO � Nisi kumpia kwa mashabiki wa soka, Bundesliga imefika Anza kushangiria mabingu wa ukweli wa Bundesliga live kupitia Star Times Team 18, Ligi Kui ya Ujerumani, Ligi Kubwa Duniani, Ligi Bora, Yenye Mpira Wakasi, Nguvu, Ari Wenye Brudani ya kutosho kwa wale onoji wa mpira, asua Uskose Ligi ya Bundesliga kutoka Ujerumani live Kwanzia tare 14 Agust kupitia Star Times Sports Channel kwa shiringi alfu ne Bundesliga ni mpira ulioungo Ujerumani K Kelli